Scrivere una pagina di storia è fondamentale Lusinese Pesca benissimo Cardia in area di rigore Riesce a tenerla Cardia la mette in mezzo Trova una deviazione Anticipato Domenico Saba passa Sinistro primo palo esterno della rete Viaggia sulla corsia di sinistra A vuoto Rischiosissimo Saku Colpo di testa Favorire Domenico Saba Che trova un compagno in area di rigore La palla in mezzo Foddai Non calcia Va sul sinistro Alto sopra la traversa Il tentativo di Follai Palla che viene messa in mezzo Deviazione Cardia Murato Ruggeri Calcia Larghissimo Luglio Finta Tiro Luglio Centrale Toro in due tempi Centrale Sizia Sinistro da lontano Cardia Il gol Il gol del Castellanos Ma c'è fuori gioco Fellecca Fellecca con sinistro Secondo palo Arriva il gol Di Matteo Cannas Ancora Ancora fuori gioco Palla in mezzo Palla in mezzo Palla in mezzo Qui ci ha provato in qualche modo Claudio Mura Palla in mezzo Secondo palo Chessa Non trova lo specchio della porta Palla fuori Va Fellecca Non schema Palla dentro Sizia primo palo L'esce a girarla in mezzo Arriva il gol Del vantaggio Il gol Di Matteo Cannas 1 a 0 Per il Cassiadas Che trova il gol In apertura Di secondo tempo Attenzione Palla in mezzo Diventa un tiro Toro Anticipa Non cerca l'1-2 Saba Riesce a passare Deve metterla in mezzo Lo fa in questo momento Toro Anticipato Foddai Parecia Lusinese Con Foddai 1-1 L'esultanza Nel settore Tre ospiti Foddai Foddai Appareggiato A saltare 6 uomini Sanna Secondo palo Daga Vuoto Colpisce di testa Fellecca Lo stesso Luglio Che la mette in mezzo Ferrati Si alza La bandierina Foddai Aveva segnato Di nuovo Perlomeno controlla male Può se la guadagna Foddai Al limite dell'aria Ci entra Foddai L'appoggio Da Ferranti L'1-2 Luglio Prova a calciare Luglio Toro Foddai Posizione regolare Foddai Dentro Saba Sinistro Murato Sinistro Saba Saba Avanti Lusinese A Castiadas La ribalta Saba Che poi va sotto Il settore Ospiti Esulta Lusinese Che passa In vantaggio Luglio Stop Centrale Saba Gioca bene Adesso Lusinese Tede Allarga La possibilità Per Spanu Che entra in aria Va sul fondo Spanu La mette in mezzo Coppa di testa Tre A uno Usinese Il gol Di Nicola Sanna La chiude Lusinese Regala Questa gioia A Giuliano Robbi Occhio a Polone rubato La possibilità Il contropiede La palla verso Luglio Luglio Fuori Fuori A due passi Dal 4 a 1 Lusinese Calcia Ruggeri Direttamente in porta La riapre Il Castiadas Con Ruggeri 2 a 3 2 a 3 Adesso viviamo Minuti finali Infoccati Altra possibilità Per il Rio Che chiede Chiede palla Ruggeri che viene servito Mura è diventato Ultimo uomo È salito anche Chessa La disperazione Del Castiadas Che manca Solo un gol Per pareggiare Questa partita Saba Prova a dare una mano In difesa Chessa Primo palo E poi allontana Il pallone Dove non c'è nessuno L'ultima occasione Ruggeri Palla in mezzo Colpa di testa Caboni Caboni A terra Portano tutti a saltare Adesso Il Castiadas Ruggeri Secondo palo Bop Bop Murato Ruggeri Lungo Colpo di testa All'allontanare C'è ancora Mura Contro Fischia Tre volte Storia Dell'Udinese Dell'Udinese Che vince Castiadas Vince tra due Regala Un sogno In finale Per andare Per la prima volta In eccellenza A Giuliano Robbi Che sta vivendo Un periodo Un po' così Direttamente da casa L'abbraccio Dei tifosi